MDF come stai? Morto di fame, sì, sì. Era mezz'ora che diceva, è arrivato Marco Bianchi, è arrivato Marco Bianchi, è arrivato Marco Bianchi e qualcuno ha detto sì, finalmente è arrivato, dopodiché è cominciato. Cos'ha portato? Cos'ha portato? Cos'ha portato? Ha portato una torta, dopodiché è continuato, ma la torta, ma la torta, ma la torta, eccola qua. C'era lo spettro, che ne so, di Matteo, tortino di cavolo, c'era anche tortino del cavolo, barbabietola bollita, barbabietola, niente di tutto questo. Buongiorno Marco, buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Bentornato, con un'abbronzatura che ci lascia un po' spiazzati. Vedi? Invece l'Italia ci regala tanto bel sole. Assolutamente. Dava razza alla Puglia, però la fin fine di sole ne ho preso. Certo. Bene, 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 ti vedo in grandissima forma, molto bene. Allora, prima che tu arrivassi, ti abbiamo appunto anticipato, è scappato un termine vegano, che era ovviamente un po' improprio, però mi colpisce molto come la gente abbia bisogno di incasellare. Sì, è vero. Uno deve sapere che tu sei vegano, sei no vegetariano, sei no carnivoro, quello che vuoi. In verità io ti ho sempre vissuto come uno che ha avuto un approccio alla cucina un po' più scientifico e quindi hai cercato di unire l'utile al dilettevole, dove il dilettevole è il piacere di mangiare e l'utile è quello di mangiare cose che facciano bene e non facciano male, giusto? Esatto, assolutamente. Infatti da qualche anno ormai ho... Poi vengono fatti le presentazioni dei libri. Potresti, sì. Guarda, sei libero, di tappe neotane, quindi se puoi girare l'Italia andiamo insieme. Sì, mi definisco un food mentor, quindi colui che comunque è capace di interpretare il cibo attraverso quelli che sono i dati scientifici. Ok, tu che studi hai fatto? Diamo già parlato mille volte. Sì, ma se lo guarda volentieri, sono un tecnico di ricerca biochimica che poi ha fatto per 12 anni il ricercatore in campo oncologico nello staff di Umberto Veronesi. Perfetto. Ad oggi il suo divulgatore scientifico, quindi. La biochimica diventa sempre più importante nella cucina, anche quella convenzionale. Ormai quando vai in un ristorante di quelli che si attirano un pochino, sembra di andare in un posto con gli alambicchi, no? È vero. D'archimede pittagorico ormai. È vero. Soprattutto qualche anno fa, dai, adesso forse un pochino meno, no? Tu ti riferisci alla cucina molecolare? Cucina molecolare. Beh, comunque c'è sempre tantissima ricerca. La vedo leggermente in down. Sì. Mi se dico una gabbia. No, no, lo è. È in down quello che c'è di più, però. Però ha ragione. Sì, no, hai ragione perché c'è più percezione del voler sapere quello che mangiamo. Quindi ormai anche tanti menù dei ristoranti, spesso e volentieri, tipo dal detox, lasciamelo passare, non è un termine corretto da utilizzare. Comunque dal detox, piuttosto alla ricetta light, cioè si vuole dare questo tipo di messaggio anche in un piatto. E ormai anche nella ristorazione, insomma, è abbastanza diffuso. Tu hai scritto diversi libri, no? Ne esce grosso modo uno all'anno? Più o meno, sì. Più o meno, più o meno. A volte sono stati due, questo è il diciassettesimo. Siamo a dieci? Diciassette. Diciassette, dio mio, diciassette. Come si fa a trovare uno spunto nuovo? Questo è stato facile, comprensione dell'anno scorso, quindi in quarant'anni. Ho voluto creare una sorta di punto, scrivere su un foglio bianco, tirare una linea e iniziare a capire quali sono stati i momenti più salienti della mia vita. Dal punto di vista gastronomico? Dal punto di vista gastronomico ed emotivo. Quindi che cosa mi ha fatto portare a ricordare una certa ricetta in un certo periodo della mia vita? Hai unito il cibo un po' alla... la Madeleine di Proust, cioè una cosa che è mangiata ti evoca subito un ricordo. Perfetto, esattamente. Vai, fai per esempio qualche ricordo. Ma guarda... Partiamo dai ricordi che mi piacciono di più che la cucina. Sì, io... La cucina è più rotti con gli oli. Eh sì, però quando ti siedi... Ma poi che modi sono? Per me la cucina è mangiare. Porta una torta che fa commuovere dalla bontà, commuovere. Grazie Nicola, grazie. No, guarda, io inizio il capitolo proprio del libro parlando proprio anche del billi, del billi degli anni 80. Il suco di frutta. Sì. Il suco di frutta. Eh, il frutta avremmo lì dire. Era acqua, zucchero e un po' di aromi di mela o arancia. Che mi colloca proprio in un periodo proprio preciso, che sono proprio gli elementari. E queste gare in bicicletta che si facevano all'epoca nel mio quartiere, che era il Corvetto, zona di... Insomma, in fondo di Corsolodi. Come no? E con papà si andava appunto a queste biciclettate. E alla fine di questa giornata... Cioè il premio era il billi. Il premio era il billi, eventualmente il marsupio, una borsina, insomma cose molto semplici. Ovviamente in questo contesto ti do una proposta alternativa, che sono dei succhi fatti in casa, dei frullati, degli smoothies, insomma... Tu dici che il billi del terzo millennio è il bobby. E vorrei contestare questa cosa perché il billi, oltre al piacere di berlo, aveva anche un bellissimo epilogo. Cioè gonfiavi il contenitore e poi scopi una colmetta. E gli facevi lo scoppio. Adesso con questi più recenti... No, quello non puoi fare più niente, no, no. Anche il piacere di infilzarlo, devo dire, il billi, no? Eh sì. Infilzare la cannuccia di tasca. Sì, sì. Lì però c'è ancora in tanti break, insomma. E quindi per dire, da questo episodio della vita sono arrivato ovviamente a raccontare, non so... La mia passione per Lorella Cuccarini, quindi all'epoca in cui mi fiondavo fuori dagli studi di Canale 5 con l'Ogno Monzese e l'aspettavo per Buona Domenica. Quindi dalle 8 del mattino alle 8 di sera finché finiva... Era la Cuccarini di che cosa? Di Buona Domenica. Buona Domenica 95. Lei con Marco Columbro, più o meno. 94, 93. E per qualche anno, insomma... E cos'è che ti piaceva così tanto della Cuccarini? Quanti anni avevi, scusami? E lì avevo 13 anni. E ti piaceva la Cuccarini? Da matti, da matti. Da matti, mi piaceva... E la dacchia. E vabbè, è una cosa curiosa, conferrai su questo. Sì, però devo fare quello che... Beh, non è una brutta donna. Ma per carità, va per carità. Ah, ok, ok. Cioè, no, no, assolutamente. Però, tutto sommato, ballava ancora lì? Sì. Ah, ecco, no, 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 questo, questo, questo. Sì, sì, ballava, era con Silvio Oddi all'epoca, adesso non ricordo male. Sì, come no, come no. E la Cuccarini dove ti porta in cucina? Mi porta dei panini più sani, perché io mi fiondavo fuori dagli studi di Canale 5. Ah, certo. Con l'impossibile nello zaino. Ad oggi, quindi, ti do delle alternative nel momento in cui sei fuori porto. Cioè, tipo, domenica voglio andare a Gran Previo di Monza. Perfetto. Ok, ci devo stare tutta la giornata, di alto prestissimo. Ti organizzi. Mi organizzo e mi porto da mangiare, perché la mia Cuccarini era la Formula 1. Perfetto. Io quando ero 13 anni andavo a Monza a vedere Gran Previo. Bravissima. Mi faceva il pane, il panino col tonno, oppure il panino col prosciutto, queste cose, e mi metteva sempre la mozzarella, la cacciottina cicillo. Eh, va bene. Era una cacciottina di plastica, credo, per la quale mi prendevano più il culo tutti i miei amici nello zainetto. Quindi adesso cosa potrei portarmi? Adesso un bel... Queste cose della Cuccarini. Puoi giocare qui. Comunque un bel tramezzino con del sgombro, con delle verdure grillate all'interno, piuttosto che con del lumus di ceci, che ormai sono... Ottimo. C'è passato. Io vado a Monza con l'humus dicendo. Ma non ti vede nessuno, è un panino, non ti vedono dentro. Scusate, adesso devo mettere... Ma al canto sei messo. Senti, volevo dire, vabbè, ho letto delle interviste, insomma, hai parlato di questo tuo coming out, si parla anche di questo nel libro? Guarda, se ne parla in un solo capitolo. Diciamo, un indizio sulla Cuccarini, ecco. Certo. Ma allora eri ancora etero quando andavi a vedere... Assolutamente, sì. No, o meglio, non lo so. Con tutti i particolari davvero trascurabili, eh, però... Ma probabilmente no, nel senso che ci nasci omosessuale. Non è che ci nasci, nel senso che il... Posso dirti una cosa? Ho letto una bellissima intervista su questa cosa sul Corriere. Grazie. Molto delicata, molto bella da parte di chi te l'ha fatta e anche nel modo in cui tu hai risposto. Due cose mi hanno colpito al punto di commuovermi quasi. La reazione di tua moglie, quella cosa di rimanere abbracciato. E ti sta commuovendo. E ti sta commuovendo ancora perché... Eh, ma perché ha una certa età. No, e poi la cosa di tuo padre che ti dice, spero che non sia una moda, che è bellissima. Spero che non sia una moda e denuncia... Anche poi torni qua fra un mese e ti piacciono ancora le fighe. Esatto. Denuncia l'età del papà. No, no, assolutamente, assolutamente. Guarda, diciamo che il libro parla ovviamente di tutti questi... questi miei 40 anni. Quindi ripercorro i momenti di bullismo subito da bambino fino ovviamente ad oggi. Quindi la nascita di Vivienne, di mia figlia e la mia... E la tua rinascita. La mia rinascita. Perché in qualche modo vai a chiudere un cerchio di sicurezza che ti permette poi di riflettere su quello che... Certo. E in tutto questo, certo, devo ringraziare assolutamente la donna che ho accanto e la mia bimba. Quindi non avrei... Cioè, non sono ad oggi davvero quello che sono, non sarei qua a parlarne se non avessi appunto loro al mio fianco. Quindi... E se posso dire, il coming out mi sembra sempre una bella notizia. Cioè, perché comunque... Allora, è una bella notizia, però sono un po' contro queste parole. Beh, però è sblocco. Perché è un po' come raccontarsi eterosessuali. Cioè, non è che racconti... Buongiorno, oggi siamo eterosessuali. Ma certo. Sono contro questo tipo di... Di modo in cui porre la notizia. Mi viene comunicata. Sì, perché non deve essere una notizia. Oggigiorno non deve essere una notizia. Certo, ma certo. Cioè, se cammini... Otto colonne. A invento. Matteo Renzi piacciono le bionde. Vabbè, ragazzi, ci arriveremo per gradi oggi. Ci arriveremo per gradi. Chiaro, chiaro. Ma in quel caso, ad esempio, articolo stupendo, ma avrei preferito anche un titolo diverso. Proprio perché... Ah, questo non ve lo ricordo. C'è di mezzo anche la scena. C'è di mezzo una crescita. Ma ti devo dire che i titoli, come saprai, non li fanno quelli che... Lo so, assolutamente. Infatti, non dico nulla contro perché... Ringrazio che era bello l'articolo. Anche se poi adesso mettiamo un disco e poi dobbiamo parlare anche dell'ordine, che so che è una cosa che è entrata nella tua vita, alla quale noi teniamo tantissimo. Ok. Eh, perché Luca è questo quello che fa. Giusto per rovinare questa poesia, la prossima canzone si intitola Due gocce di vodka.